E' una vera e propria bomba quella scoppiata alla regione in merito ai presunti incarichi dirigenziali a Calabria Verde. Nell'Emirino una serie di nomine firmate dal commissario Aloisio Marigio, ex generale dei Carabinieri, a cui è stato affidato l'incarico ai tempi della giunta Oliverio di dirigere una, se non la più grande azienda pubblica della Calabria, delegata ai lavori di messa in sicurezza del territorio nel campo della forestazione e difesa del suolo. Una questione questa, divenuta pubblica a seguito dei dubbi sorti al consigliere regionale Luigi Tassone, che a tal proposito ha presentato un'interrogazione. I posti di dirigenti dei settori assegnati, sostiene il rappresentante del PD, sono vacanti da numerosi anni, ma solo ora si rabbedono ragioni di urgenza e necessità ad attribuire autonomia operativa conferendo incarichi di regenza. Oltretutto, Marigio risulta essere decaduto dall'incarico di commissario straordinario dell'azienda e qualora agisse in regime di prorogazio non avrebbe alcun titolo a conferire incarichi dirigenziali e qualsiasi atto emanato risulterebbe perciò nullo, esponendo l'ente, peraltro, a gravi conseguenze. Ed ecco che la Regione non fa orecchie da mercante e tramite la Presidente Santelli fa sapere di aver puntualmente contestato al commissario straordinario l'affidamento degli incarichi di regenza temporanea. La risposta all'interrogazione è stata appena depositata. Insomma, sembrano esserci questioni di legittimità tutte da avaliare e chiarire. Tra l'altro, segnala il Dipartimento Presidenza, il piano triennale del fabbisogno non risulta essere aggiornato al 2020 e soprattutto nelle delibere di conferimento della regenza è attestato che il personale incaricato percepirà le differenze retributive ma non si evince la relativa copertura. Un costo maggiorato decisamente in contrasto, segnala la Regione, con le norme che regolamentano i bilanci aziendali di Calabria Verde che ad oggi non risulta essere dotata del bilancio di previsione 2020-2022 e quindi in gestione provvisoria.